salve a tutti sto facendo un video sul mio canale youtube per quanto riguarda l'informatica e linux anche windows e in questo caso vi parlerò di un programma che serve per sostituire il browser quando dovete guardare un filmato su youtube e avere quelle particolarità e quelle funzioni che ci sono anche nel browser questo programma si può utilizzare sia con linux che con windows vi faccio vedere qual è ed è questo di qua ed è smtube smtube che vado su informazione è praticamente un programma compilato in qt da riccardo villalba quindi un italiano che ha fatto questo questo software che vi consente appunto di vedere streaming tutti i filmati di youtube cosa molto positiva il fatto che se avete magari un audio non sufficiente nel video che state guardando con l'apertura del vl si che si apre in automatico quando cliccate su questo scusate quando vi trate su queste su questi anteprimeri video che si vedono nelle categorie e poi ve lo spiego meglio appena cliccate sono di questi video si apre il vostro lettore multimediale può essere vl si come può essere mtv player o diciamo gnome player e avete appunto la possibilità di poter amplificare magari il volume cosa che non si può fare con il browser che ha una certa tolleranza specialmente su windows perché per quanto riguarda linux abbiamo pulse audio che ci aiuta in questo caso ad aumentare il volume più del 100 per cento vi spiego questo programma questo programma ha delle categorie qua e potete scegliere tra i più popolari che ora ci sarà forse un aggiornamento no già questi sono più popolari poi trend quelli che hanno di più ad esempio più visualizzazione e poi c'è la musica quindi reparto musicale è un po come sul browser quando andate su youtube ci sono i giochi e notizie e film ecco abbiamo andiamo sul notizie e quello che riguarda diciamo i film andiamo sul popolare dove era prima e abbiamo praticamente qua c'è l'impostazione e potete decidere la qualità in questo caso è 360p e potete variare anche la qualità del video il lettore potete scegliere tra smp player oppure vlsi tra con player insomma potete selezionare quello che più vi piace vi aggrada o che abbia appunto i codec più completi potete anche variare barra di stato strumenti insomma cose che si fanno in tutti i software e dopo di che dopo aver visto queste cose vi faccio vedere dove dovete scaricarlo potete scaricarlo per quanto riguarda scusate metto in primo piano ma vediamo se riesco non ci riesco lo farò un'altra volta dopo il video allora e non serve più a niente ovviamente comunque potete scaricarlo direttamente nel sito di punto praticamente sm tube punto org dove c'è appunto lo sviluppo di questo programma il sito ufficiale ci sono altri siti dove potete andare a scaricare però non ve lo sconsiglio perché poi andate a trovare qualche trappola di internet e qua avete potete scaricarlo per windows quindi lo avete in ex quindi eseguibile 32 bit e 64 bit quindi vi dà la possibilità anche di utilizzare il 32 bit quindi un computer datato dopo di che su punto c'è il famoso terminale che con queste tre righe comando lo installate tranquillamente cosa importante dovete magari prima installare youtube dl dal terminale youtube dl chi non lo saprà serve per chi non lo sa serve per scaricare da internet quindi video e cose varie da youtube appunto con il terminale però youtube dl in questo caso deve essere integrato con sm tube perché entrambi interagiscono quindi nel pacchetto dell'insieme ci vuole anche youtube dl andate sul terminale e fate sudo apt install youtube trattino dl fate invio si installa e poi andate a installare queste qua dei repository dopodiché c'è tarby z potete tranquillamente installare sia su windows che su youtube su linux scusate penso che sia molto più importante chi ha windows perché appunto il fatto dell'amplificazione audio è molto comoda questa cosa io l'ho installato all'inizio non avevo notato il fatto che ci voleva youtube dl e quindi non funzionava poi insomma ho capito che ci voleva appunto questa estensione me l'ha detto anche il programma stesso ci vuole questa estensione l'ho installata e avendo scaricato vlsi su linux mint in questo caso siamo su linux mint ho potuto diciamo integrare le due cose ora vi faccio vedere chiudo magari qua il browser vi faccio vedere un video come funziona appunto con youtube dl come si vede io mi metto un po in icona clicco sull'anteprima del video e cliccando sull'anteprima del video in modo più veloce quando non sto registrando si apre il filmato ecco e c'è il filmato che avete scelto in quel momento ecco ho fermato per evitare problemi di reclama e copyright lo potete anche mettere in piccolo perché l'ho messo grande e da qua vi vedete i filmati i vari filmati questo posso prendere magari notizie questa di qua per farvi un esempio e cliccando sull'anteprima un po come sul browser potete praticamente vedere i vari filmati ovviamente dlc è comodissimo ma potete anche usare un ottimo riproduttore multimediale come mpv player che secondo me anche un po superiore in certi casi a dlc questo è il programma che riguardava questo video rivediamo l'informazione questa è la versione e c'è sul software center software software center o gestore pacchetti c'è sempre smtube però è una versione ormai datata e non funzionerà sicuramente specialmente su linux mint in questo caso dal sito ufficiale scaricate la versione aggiornata che vi funzionerà perfettamente vediamo non c'è più niente qua ripeto andate anche su su impostazione potete impostare quale lettore multimediale utilizzare così via le varie impostazioni poi se volete avere più informazione sul sul canale che da il video vi porta appunto nelle informazioni del canale che ci sono visualizzazioni c'è un pollice giù pollice in su però non potete interagire in questo caso ma potete andare a visualizzare appunto direttamente il canale che vi da quel quel filmato che abbiamo uno di quei filmati che vediamo ecco questo è il assunto del filmato io mi fermo qua per non esagerare io ovviamente non vi impongo nessun pcm potete tranquillamente uscire potete anche non mettere le maschere per me va tutto bene così io non mi impongo niente io vi impongo solamente di guardare questo video va bene questo è tutto vero rose è la mia segretaria rose va bene questo quello che va benissimo rose chiudo quel filmato un prossimo video tra due anni del mio canale